Con questo saggio che vi proponiamo adesso entriamo nel merito di una questione fondamentale per l'oggi e per i credenti. Rimaniamo idealmente con Papa Francesco, infatti questo volume si intitola Cristiani per questa città dentro un cambiamento d'epoca. La frase famosa è il cambiamento d'epoca e non un'epoca di cambiamenti, è stata pronunciata proprio dal Santo Padre all'assise ecclesiale di Firenze. Questo volume, che porta diverse firme, parla di come essere oggi Cristiani nel terzo millennio. L'impronta è quella ovviamente dell'azione cattolica ambrosiana che proprio oggi, per chi ci ascolta di domenica 23 febbraio, vive la sua diciassettesima assemblea diocesana elettiva. E quindi è interessante approfondire questo tema. I collaboratori a questo volume sono Monsignor Franco Agnesi, che è vicario generale della nostra diocesi, ma è stato a lungo anche vicino all'azione cattolica assistente. Silvia Landra, che è presidente uscente di AC Ambrosiana, uscente perché ha compiuto già i due mandati triennali e quindi non rieleggibile. Don Cristiano Passoni, assistente generale appunto dell'azione cattolica diocesana ed Eugenio Zucchetti, purtroppo scomparso già da anni, scomparso troppo giovane, permettetemi di dirlo, ma i cui scritti sono sempre ancora illuminanti. E allora, cristiani per questa città, dentro un cambiamento d'epoca, per capire di più come camminare con la chiarezza e la consapevolezza di tutto quello che possiamo e vogliamo dare come credenti alle vie, alle strade del nostro mondo.